Ragazzi, ecco qua un esempio di allestimento di una possibile gabbietta, questa è la gabbia, la classica che potete avere voi a casa con lo sportellino che si apre, è grande perché è un metro e quaranta questa, vi faccio vedere come li allestisco e vi consiglio di fare, allora i beverini, io ne consiglio sempre di mettere almeno due, quindi da novecento o da litro, trucciolato, io il trucciolato lo metto abbondante ragazzi, abbondante, quindi due o tre centimetri, lo sapete che i miei cuccioli sono tutti abituati a sporcare solo nel trucciolato di legno, igienizzato, questo è un prodotto fantastico, è un prodotto stupendo che io vi consiglio di usare sempre perché è naturale, se ingerito non dà problemi, non è come il pellet che comunque è addensato con prodotti chimici, questo è un prodotto igienizzato, sanificato ed è polverizzato. I piedini dei vostri coniglietti vi ricordo sempre sono più delicati di quelli del cane e del gatto, il sotto naturalmente, quindi stavo pulendo questa gabbietta, ho detto ma perché non fare un video ai miei amici che vogliono una volta e mi chiedono, ecco, un possibile allestimento di una gabbietta, quindi fieno naturalmente, quindi trucciolato, abbondante, due o tre centimetri, morbido, da sgranare bene, ok, lo posiziono dappertutto. Lascio in genere io una zona libera, naturalmente dopo aver pulito bene la gabbietta, metto tutto pulito, fieno, lo so che c'è il portafieno che esiste ma io qui ci devo mettere dei cuccioli per facilitare ai cuccioli l'erogazione, quindi il consumo del fieno, lo lascio un bel mazzo qui all'interno, lo potete legare con uno spago se volete che non si sparga dappertutto, comunque fate voi. Io vi faccio vedere un possibile esempio, la loro bella ciotolina la sistemo qui con il mangiare e questo è un possibile esempio, manco il bastoncino per i denti che io lo posiziono, lo metto all'interno, qui così lo poggio, senza tanta premura, in maniera naturale. E questo è un possibile allestimento di una gabbietta. Naturalmente il fieno lo rimuovo la mattina, lo metto pulito e la sera lo tolgo e lo rimetto pulito due volte al giorno, perché ai coniglietti vi ricordo che il fieno quando è sporco o pieno di urina o bagnato non ve lo mangiano, sono animali pulitissimi. Questo assolutamente, assolutamente. Per la ciotolina non vi consiglio di usare ciotoline in plastica, perché comunque vengono, non so se si vede, vengono smangiucchiate, io non le uso più. Faccio vedere una possibile ciotolina, io queste qui le prendo anche nei negozi di animali, le ho trovate anche dai cinesi, quelle per uso, diciamo, vedete, cane, gatto, acciaio, lavabili in acqua calda, non sono morsicabili, insomma. Anzi, quando le compro hanno questa gomma antiscivoli, questa la tolgo, perché naturalmente si toglie tranquillamente, basta una leggera pressione, vedete la differenza, perché possono essere mangiate. Quindi assolutamente evitiamo, ok ragazzi, un possibile allestimento. Il fieno va bene anche un po' nel portafieno, io però ripeto, qui ci devo mettere dei cuccioli, devo facilitare quindi il consumo di fieno, perché sono piccolini. Ciao ragazzi.